Achille Etna Michelon è stato un pittore francese del XIX secolo, morto in giovanissima età. Abbiamo qui oggi un'opera realizzata nel suo ambito. Il modello di riferimento dal quale derivata è un dipinto autografo dello stesso Michelon che presentò al Salon parigino del 1822 e che piacque così tanto al re francese che decise di acquistarlo per farlo confluire nelle sue collezioni. Si tratta di una danza italiana, infatti Michelon a lungo soggiornò in Italia dove era solito girare con un album di fogli per disegnare un plein air dal quale poi successivamente derivare delle opere pittoriche nel suo studio. Di questo dipinto sono note diverse repliche, una anche di Corot, l'allievo principale di Michelon e anche un bozzetto preparatorio. Per la qualità pittorica e per l'adesione a quella che è l'opera originaria di Michelon il nostro dipinto fu realizzato nel suo ambito.